Non è il mio argomento, sono stato sempre sopra, tutti questi, lavorare sopra, continuare ad assistere qui dall'alto. Cosa dire, io dieci anni fa... Siamo scambiati per il progetto che ci ha di intrecciare varie forme di conoscenza. Mi piaceva l'idea di esplorare il mondo intellettuale della cultura, della poesia, di raccontare i libri. Qualche volta facciamo anche questi tipi di presentazioni, quindi siamo scambiati un po' di mail e poi è nata questa possibilità. Lei è stupida, ma sicuro, no? E non volevo creare, sembrava troppo male. La possibilità della nostra struttura ad ospitare queste iniziative, quindi abbiamo iniziato... ... ...